Jean-Frédéric Basille è stato un pittore impressionista, la cui fama non è sicuramente pare al contributo che diede alla storia dell'arte. Nato a Montpellier il 6 dicembre 1841, a soli 21 anni approda nella capitale francese, con l'intento principale di intraprendere gli studi in medicina, ma è proprio a Parigi, che grazie alla sua amicizia col principale esponente del movimento artistico più famoso di fine ottocento, trova l'ispirazione per diventare un artista. Il primo contatto che Basille ebbe con l'arte avvenne tuttavia già in tenere età, quando, grazie all'amicizia di suo padre con Alfred Brouillat, ricco banchiere e collezionista, poteva ammirare alcune tra le tele dei più importanti pittori del XIX secolo. Se in un primo momento dipinge solamente come passatempo durante il tempo libero, continuando gli studi in medicina, in breve tempo la sua passione diventa tale da portarla ad abbandonare l'università per dedicarsi interamente alla pittura, pur senza l'appoggio della famiglia. Grazie alle sue frequentazioni nell'atelier del pittore svizzera e suo maestro Charles Cleie, fa la conoscenza di artisti illustri come Sisley, Renoir e Monet, e proprio con questi stringe una forte amicizia, fatta di aiuti e collaborazioni reciproche. Basile, infatti, aiuterà economicamente sia Monet che Renoir, acquistando alcune delle loro tele ed ospitandoli nella sua bottega di Rue de la Condomine, divenuta in quel periodo punto d'incontro per numerosi artisti francesi. Renoir, nel 1867, ritrae Basile nell'atto di dipingere, Frédéric Basile Peignan a Sonchevalet, e è esposto in suo ricordo al Musee Fabro di Montpellier, sua città natale. Monet, per conto suo, utilizza il fisico di Basile come modello per la figura maschile, ripresa più volte nell'opera Déjeuner sur l'herbe, iniziata nel 1865 e mai portata a termine. Come primo genere nel quale Basile cerca di cimentarsi, troviamo la natura morta. Esempio di questo genere è il quadro I Pesci, opera buia e accurata, dove si scorge non solo l'influenza dei maestri olandesi o fiamminghi, ma anche quella di Manet. La bella natura morta con Eirone, d'altra parte, rivela la passione dell'artista per la caccia, praticata insieme al padre nei dintorni di Montpellier, oltre che l'influenza esercitata tra i trofei di caccia dipinti da Audrey o Chardin, dei quali riscopre l'irismo discreto e l'elegante semplicità. Animato tuttavia dal desiderio di dipingere dal vivo, i primi tentativi di studi del paesaggio avvengono grazie all'amico Manet. È nella foresta di Fontemblay che Basile comincia ad inquadrare in maniera brusca il paesaggio e si ci metta nel dipingerne soltanto i colori, i contrasti, sviluppando la particolare tecnica pittorica dal nome Emplener. I due viaggiano insieme a più riprese, ma è solo dopo il soggiorno a Cheilly, durante il quale Basile ritrae il suo amico, costretto a letto dopo un incidente, nell'ospedale da campo improvvisato, che acquista simbolicamente la propria indipendenza. Se i primi dipinti del maestro sono stati infatti influenzati dallo stile di Manet e dal suo amico Monet, ci sono diverse opere successive che raccontano invece la nascita di uno stile unico ed istintivo, basato sul suo fermarsi sullo studio della luce, delle ombre e dei colori, ed è proprio nel cuore della sua terra natale che Basile trova l'espressione del suo temperamento. Nel 1864, in occasione di uno dei suoi soggiorni nella figlia di famiglia sulle rive delle Amérique, Basile dipinge la robe rose, dove tenta di coniugare le norme della pittura classica con le tesi impressioniste. Il quadro ritrae sua cugina, che dalle spalle allo spettatore e volge lo sguardo in direzione del borgo. Per accentuare il contrasto tra lo sfondo del primo piano, Basile gli inserisce alcuni alberi, nell'ombra come la figura femminile, che inquadrano il secondo piano e mettono in risalto la luce cruda del mezzogiorno, che taglia ed evidenza i contorni. All'ombra di un albero nella stessa residenza di Amérique vengono ritratti dieci dei suoi più stretti parenti, compreso lo stesso artista, nell'estrema sinistra del quadro, ritratti come protagonisti nella celebre opera intitolata Ritratto di famiglia. La scelta dell'esterno è volta ad accentuare i colori crudi del paesaggio e del cielo fra loro antitetici. La luce che filtra attraverso il fogliame mette in risalto gli abiti chiari, che si contrappongono ai toni scuri delle vesti, di uno scialle o di un grembiule. Tutto è giocato perciò sulle diverse graduazioni delle luci e delle ombre, queste ultime risultano anch'esse colorate, solo con tonalità più scure. Dopo i quadretti di vita familiari di Amérique, Masile si allontana progressivamente dalla casa per addentrarsi nella natura sulle rive dell'E, dove può disporre, en plein air, di corpi atletici e luminosi, operando tuttavia con lentezza e ponderazione, nel tentativo di restituire ad ogni cosa il suo peso e il suo volume, e non soltanto di dipingere l'apparenza delle cose. Nelle due versioni della Giovane Donna con Peonie, in cui una venditrice offre un mazzo di peoni e scelto dal suo ricco cesto di fiori di stagione, richiamando a certi quadri di Manet, Basile coniuga la natura morta con la pittura di figura. In esse, non solo l'artista riesce a evidenziare le forme tra luce e colore e i volumi schietti, ma si ritrova la predilezione per le figure calme, assorte nella loro attività, o, al contrario, che non hanno paura di fissare lo spettatore diritto negli occhi. Tuttavia, nonostante il suo straordinario talento, che in poco tempo lo rende uno dei pittori più famosi sulla scena francese di quel periodo, il 28 novembre 1870, a 29 anni non ancora compiuti, muore combattendo la guerra franco-prussiana, colpito da due pallottole. La morte prematura di Basile, ricordato come un giovane appassionato, altruista e dai modi gentili, colpisce particolarmente il mondo artistico, lasciando tutti senza parole.